Lavoro che riprende a buon ritmo in quel di Bogliasco. La Sampe è tornata a sudare e a faticare, in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà di scena a Marassi la Roma di Luciano Spalletti. Un big match dalle grandi aspettative, per due squadre all'inseguimento dei rispettivi traguardi di fine stagione. Il pomeriggio del Gloriano Mugnaini è scivolato via senza troppi intoppi, con la Rosa divisa in due parti come da consuetudine, scarico per i ragazzi impegnati domenica scorsa a Firenze, allenamento regolare per il resto del gruppo. Come da copione spazia i preparatori atletici Pondrelli e Tibaudi, con mister Walter Mazzarri comunque già impegnato a studiare tattiche e automatismi da impiegare nel match contro i giallorossi. Firenze e la Fiorentina sono già state messe in archivio, ma anche a due giorni di distanza si può tornare ad analizzare una sfida intensa ed emozionante come quella del Franchi. Il punto conquistato con i viola infatti mantiene accese le speranze europee di un Doria che appare domenica dopo domenica sempre più calato in questa nuova dimensione di squadra in grado di competere con chiunque. E in quest'ottica il match contro la Roma rappresenta una sorta di vera e propria prova d'appello. Un concetto sposato in pieno anche da Daniele Franceschini. È importantissima soprattutto anche per noi, perché loro stanno lottando per lo scudetto ma noi stiamo lottando per un posto in Europa. Arrivare in Champions è difficile, però noi sogniamo. Comunque dobbiamo lottare soprattutto anche per andare UEFA. Siamo due punti sopra l'Udinese e quindi io direi di non fare tanti calcoli. Dobbiamo cercare di vincere domenica contro la Roma. Tra l'altro in casa facciamo sempre bene. Quindi sono convinto che con l'aiuto dei nostri tifosi, con l'aiuto della Sud possiamo fare una partita bella e importante. Nessuna defezione di rilievo per il gruppo blu cerchiato è impegnato quest'oggi al Poggio. Assente scontato Luca Castellazzi. Hanno invece lavorato a parte Ugo Armando Campagnaro e Ike Kalou. Per il Toro quella entrante rappresenta una settimana decisiva nell'ottica di un recupero almeno per gli ultimi due impegni di stagione. Seduta differenziata anche per l'attaccante nigeriano, vittima qualche giorno fa di noie muscolari, la cui entità viene valutata dallo staff medico proprio in queste ore. La grande corsa è partita. Il torneo Ravano Erg ha vissuto quest'oggi la giornata d'apertura della sua 24esima edizione. 24esimo anno come sempre all'insegna dei record, con le 310 squadre iscritte già immerse nell'atmosfera unica del Ravano. Sono state le giovani calciatrici delle scuole Giustignani e Diaz a calcare per prime il green sintetico del Valiant Palace, con un programma che solo nella giornata inaugurale prevede qualcosa come 26 partite. Per femminucce e maschietti la gioia dei primi calci e dei primi gol, con la stuzzicante novità della sala Fair Play, dove tutti i protagonisti del torneo scolastico più importante d'Europa hanno potuto fare merende in amicizia al termine delle gare.